I valori che sono quelli dell'affermazione personale purtroppo vengono declinati in maniera negativa perché seppur i due protagonisti spinti da un'autentica passione di voglia di riscatto anche sociale purtroppo naturalmente prendono una strada sbagliata e dunque il libro è pieno più che altro di disvalori però tra le pieghe dei comprotagonisti ci sono vari valori sociali, lo ritroviamo in una giornalista che denuncia il malaffare, lo ritroviamo nell'ispettore che invece perseguisce i crimini reati dunque come tutte le realtà ha naturalmente varie sfaccettature, vari toni di grigio è nata frequentandoci perché noi prima che colleghi siamo amici, lavoriamo nello stesso posto ci frequentiamo ogni giorno, lavoriamo insieme a stretto contatto e soprattutto poi abbiamo gusti letterari molto simili amiamo gli stessi autori e chiacchierando, chiacchierando di libri ci siamo detti ma perché non provarci perché non provarci avevamo un'idea, questa idea è diventata un piccolo soggetto questo soggetto ha cominciato a far scaturire il nostro entusiasmo e a fare questo esperimento anche scrittura a quattro mani che è una cosa che non avevamo mai provato e naturalmente ci è venuta fluida vorrei dire abbiamo un'ottima esperienza che continuerà insomma